bella bentornati sul canale resting gamer allora come di consueto io porto i giochini che gentilmente il nostro amico google ci propina durante alcuni eventi come per esempio adesso se andate sulla pagina iniziale di google ci sarà questa schermata che praticamente è un giochino riferente ad halloween visto che stanotte anzi domani sarà halloween quindi viene subito a vedere com'è questo giochino ecco qua vediamo un attimo il filmato ok dobbiamo usare o le frecce o il mouse per muoverci praticamente dobbiamo collezionare gli spiriti e le fiamme spirito ok una volta collezionate vanno riportate qua dentro possiamo saltare il tutorial bene vediamo che siamo noi green perfetto quindi siamo noi contro qualcuno bene aspettiamo e giochiamo 3 2 1 e andiamo bisogna stare attenti perchè l'uomo li rubano anche noi no non funziona chi è ruba prima non funziona chi è ruba prima sono ruboni eh non funziona chi è ruba prima non funziona chi è ruba prima non funziona chi è rosa Sì, vabbè! Conchiett si capisce niente! Uno l'ho perso! Questo si è impallato! E andiamo? Stanno a vincere i viola! Mamo ragazzi! Abbiamo venuto all'ultimo! Dai! E vincerò! E vincerò! Abbiamo sbloccato pure degli alciro, ragazzi! Interessante! Quindi più si gioca e più ci saranno Achievement Come volete chiamarlo! Bene! Questo è quanto! E questo? E questo? Grazie a tutti.